Guai giudiziari per l'ex comandante del Noe dei Carabinieri di Bari, il tenente colonnello Angelo Colacicco, finito agli arresti domiciliari su ordine del GIP distrettuale di Potenza con le accuse di depistaggio e calunnia. Stando a quanto emerso dalle indagini, l'ufficiale dell'arma avrebbe reso dichiarazioni false e reticenti relativi ad accertamenti in corso da parte della Procura di Lecce nei confronti di magistrati di Trani, mentre le calunnie sarebbero avvenute ai danni del PM di Lecce e Roberta Licci e sarebbero contenute in una relazione di servizio scritta proprio da Colacicco e inviata ai suoi superiori. Secondo quanto emerge da quella relazione, il pubblico ministero Licci era accusata falsamente di averlo intimidito e minacciato durante l'esame testimoniale. Successivamente Colacicco avrebbe tentato anche di inquinare le investigazioni avvicinando carabinieri di grado inferiore e tentando di convincerli a rendere all'autorità giudiziaria dichiarazioni false tali da confermare la sua versione dei fatti. Il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio, ha sottolineato il contributo lealmente e puntualmente fornito alla Procura stessa dall'arma dei carabinieri che ha consentito così di ricostruire esattamente i fatti. Il tenente colonnello Colacicco è attualmente in servizio al comando dell'undicesimo reggimento carabinieri Puglia.